Ma comunque ancora Cervia in possesso di palla con Bordignone che manovra il tocco ancora da parte di Pepe, poi l'indietro per Bordignone, ancora il tocco per vie laterali, c'è il tentativo, poi il pallone che viene manovrato ancora molto bene da Bordignone che prova a uscire, palla al piede, pallone e pallo laterale, mini spot per noi, sulla corsia di sinistra da Di Matteo che non riesce a trovare lo spazio per il cross, allora ancora indietro per Bordignone che deve fare il regista di centrocampo, a cercare... Non potrà essere eletto dalla commissione tecnica migliore in campo, subito, già un mezzo successo per lui che è sempre un po' in polemica, no? Diretta con... Goitom è rimasto interdetto, non ha dato l'accelerazione, non voleva tirare in porta, forse ha avuto il dubbio anche di dar palla nel mezzo e ne è uscito... Giocare queste partite è il sogno per tutti, immaginate uno come Giuffrida invece che deve guardare il Cervia che, lo ricordavamo anche nelle precedenti... E' amata un po' da tutti, è un po' come il tipo trasversale, ognuno ha la sua squadra del cuore, può essere la Juventus, il Milan, l'Inter... E volete provare a indicarci il reparto, ovviamente senza sbilanciarli più di tanto, rimanendo vaghi perché altrimenti ovviamente togliamo la parte di grandi parate... Era difficile capire che fosse stato in quella partita migliore in campo, forse tutti e due, forse si poteva pensare... Vediamo spesso proprio la linea 4, muoversi... Ma Pepe deve dare dei segnali, con dei movimenti, a voler la palla, proprio andando in verticale... Non solo per la scelta del nome, ma anche per chi vorrà scriverlo... Questo nome, Mino, questa busta dovrai insammollarla ad Aldo Serena perché ha deciso di metterla anche sul piano fisico... No, 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 se la mette sul piano fisico gli ha dato subito la busta, non ci penso nemmeno... Porta a Mazzi in difesa, piccolo Zamboni, Cosenza, poi Steves al centrocampo, Paredes, Missiroli, Simone, Ungaro e Mesto in attacco... Attenzione ancora sulla corsia di destra, Mesto che va via in dribbling, la chiusura in recupero di Bordignon, il palone... Ma il terreno comincia a diventare insidioso, su quella fascia c'è qualche problema per controllare ed è riuscito comunque il Cervi... Il cross nel mezzo non è preciso e quindi prova a manovrare Bordignon in collaborazione... Gli è scivolato sotto i tacchetti, Gualtieri manovra a centrocampo, Bordignon... Ragazzi, come li vedi, Ilario Castagnier? Molto concentrati, tra l'altro... Ci riesce il tocco in avanti a cercare la progressione da parte di Bordignon che riesce a toccare solo il pallone ma non a tenerlo in campo... L'avversario cerca il pallo lontano, lui era andato da quella parte però riesce a respingere con le gambe... Ancora un angolo, attenzione alla conclusione decisa da parte di Zamboni ma c'è... Quindi può essere preso in considerazione dalla commissione tecnica come migliore in campo... Attenzione, ancora Zetulo ieri, scatenato, ha voglia di mettersi in evidenza, poi Ungaro, la chiusura in tandem da parte di... Che anticipano la prima sostituzione del pubblico, tra poco scatteranno e tra poco sapremo chi il pubblico vorrà sostituire... A beneficio del... è un po' messa sotto pressione e vorrei anche segnalarvi l'ottima prestazione oggi di D'Innocenzo... A voi ragazzi... Attenzione, pallone manovrato da Mesto, poi il tocco per Esteves, Paredes non riesce a toccare per l'intervento di Bordignon... Intanto è rimasto un giocatore del Cervia a terra con Maradona che sta a provare anche qualche novità magari lì davanti... Andiamo a parlare proprio di questo con l'allenatore della Regina insieme a Taglia... In questi minuti finali di dare il massimo per recuperare il risultato, attenzione però al pressing della Regina... Una Regina che... Il pressing della Regina aumenta, pallone per Bordignon a centrocampo che deve mettere ordine, spaglia alla porta... Deve cercare di mantenere il possesso di palla, ci riesce, trova un compagno lì... Potete indicare il nome e il numero di maglia del giocatore che volete sostituire, il primo ad uscire a Picerni... Come al solito, quinta volta su cinque... Abbiamo visto Matteo al posto suo, arriva il fischio d'inizio e ovviamente si riappe anche per voi il televoto... Perché potete ancora decidere una sostituzione... C'è un omogeno sul terreno di gioco e certamente dopo quanto è successo ieri bisogna stare veramente... Sul pallone però chiaramente non sai mai dove può andare a finire la palla... Non è riuscito a dare la forza giusta forse al pallone perché lui l'ha respinto ma lentamente si è insaccato alla sua sinistra... E comunque stava per toglierlo dal campo a inserire un giocatore... Ricordiamo ancora che chi esce dal campo e chi entra non potrà essere in dubbio qualità tecnico-tattiche... Attenzione però Calcervia che nonostante le persone che ovviamente sanno calciare molto bene... Mozart e Colucci gli hanno messo il pallone dalla stessa parte... ...dall'acqua dal pubblico... Come aveva detto erano... stavano rischiando grosso due centrocampisti e un attaccante... Fra 13 secondi sapremo l'ultimo nome... I finalisti dunque vediamo l'ordine della grafica poi vedremo lo schieramento... Bertaccini, Arrieta, Borriello, Missiroli, Scandroglio, Bordignon, Spagnoli, Olivieri, Giuffrida... L'azione di vincere il campionato e adesso ci godono quest'ultima partita... Senti tu sei venuto tante volte... Parte un cross abbastanza pericoloso... La palla è buona all'indietro... Il gran tiro e c'è il gol... E c'è il gol... Un vantaggio... Bordignon con il suo destro ha trovato l'angolo... Il brasiliano è fatto... Samba, rivediamo il destro secco di Mario Bordignone, 25enne, di Campinas... Si è aggregato al Cervia nel corso della stagione... Ha conquistato la fascia proprio nel corso delle amiche e della posizione per lui... Poi Scandroglio riapre... In mezzo al campo Spagnoli all'indietro... Spazio per Gualtieri... Cerca l'1-2... Ancora il tiro... E c'è il gol... E c'è il gol del 2-0... Ha trovato il barco buono ancora Bordignone... Ci si infila sempre molto bene... Trova sempre il tempo giusto e lo spazio giusto per poi colpire... Qua anche la deviazione di Viercovi dell'aiutato... Ha toccato le gi... Attenzione a Gualtieri... Cobra... Gualtieri riesce a dialogare... Filtro e pallone... La palla è buona... Attenzione... Gielpo... Si salva su Giuffrida ancora... Palla ancora viva... Giuffrida ha avuto la grandissima occasione... I giocatori, i signori, i Leonardo e i dello Stars... Quindi nessuno dei due... Si presenti anche qualche occasione italiana... Parte il calcio d'angolo nel mucchio... Zoro anticipato... Quarantina di minuti... Sapremo... Sapremo tutte... Si riparte intanto con Bordignone... Autore di due gol... Per il momento non sono serviti... Abbiamo visto il primo tempo... Comunque staremo a vedere... Naturalmente... Da parte delle All Stars... Ancora un fallo... Rivediamo in mezzo al campo... Non si fanno complimenti... Un giro... Bravo... Si riparte... Con calma... L'apertura... Dall'altra parte c'è... È sempre stato così... Sì... Era sempre stato così... Assolutamente... Eccolo qua... Molto... Chiaro... Naturalmente... Sicuramente ci saranno... Dei preferiti... Seguiamo Giuffrida... Sta arrivando Totoschi in là... Ci è stato un piacere rivederlo... Sarà un piacere sentire un po' la sua impressione... Il suo... Assolutamente no... Dobbiamo stare attenti... Perché aveva un paio di preferenze... Per chiudere il triangolo... Cerca spazio... Non ha il momento del tiro... E poi però... Perde il tempo... E allora Rieta può ripartire... Subisce anche fallo... Sbaglia l'appoggio... Monelli... Grande lotta... Poi riparte... Giuffrida... Di festa... Va bene così comunque... Dai... Alessandro... Grazie... Del pubblico e poi delle società... Intanto però non è finita... Ancora il Cervi all'attacco... Gran botta da fuori... Ma non ha trovato lo specchio stavolta... Beppe Baresi... Pronto al nuovo cross... Nel mucchio... Svetta bene Missiroli... Poi... Può riprendere il pubblico... Quindi conoscere la rosa dei cinque... Dove poi... Si dovrà scegliere... Bola na trave... Não altera o placar... Bola na área... Se ne vim pra cabicear... Bola na rede... Pra fazer o gol... Quem não sonhou... Em ser o jogador de futebol? A bandeira no estádio... É um estandarte... Vamo na pendurada... Na parede do quarto... Distrutivo na camisa do uniforme... Que coisa linda... É uma partida... De futebol... Bigas, bigas... Posso morrer pelo meu time... Se ele perder... Que dor imenso crime... Posso chorar se ele não ganhar... Mas se ele ganha... Não adianta... Não agaranta... Que não pare de derrar... A chuteira veste o pé descalço... O tapete da realeza é verde... Eu lendo para a bola... Eu vejo o sol... Está rolando agora... É uma partida... De futebol... O meio campo é o lugar dos taques... Que vão levando o time todo pro ataque... O centroavante o mais importante... E emocionante... É uma partida... De futebol... É uma partida... É uma partida... É uma partida...